chi è minorenne non può stare in tv oltre la mezzanotte invita un po' i personaggi di Twitch per allargare il bagaglio culturale non sempre quelli che porti in televisione allora io qua sto segnando quelli che mi chiedete voi quindi sto segnando tutto però mi sembra che in quelli che mi abbiate chiesto voi ci sia anche gente di Twitch Omia Toll, adesso cerco di entrarci in contatto Power di Twitch beh Erraton insomma si ha fatto X Factor però è principalmente di Twitch quindi insomma se avete dei consigli ho usato anche il tuo accento regale per me sono importanti per il bagaglio culturale per capire meglio che cazzo devo fare qua dentro grazie Omia Toll eh ma Diego mi ha spento tutti i monitor per un secondo non so come abbia fatto per cui l'ho guardato abbastanza male perché tutte le volte che è successo l'Oculus Rift si è fulminato va bene e grazie Paolo va bene e poi c'è Cattelan va bene magari il prossimo anno perché domani non scriverò finalmente ci sta ma siamo a quel punto delle gag grazie utente sì siamo a quel punto delle gag perfetto va a rinunciare i propri sogni ballerina inseguire i sogni con cui sta il mondo grazie bene vi ricordo che questa cosa qui l'ho anche come sfondo del mio computer da oggi grazie Michi grazie mille ok già dell'89 vabbè dai almeno hai vinto il premio del web posso dire come mi hai risposto a me su Instagram? sì su Instagram su Whatsapp come ti ho risposto? ma probabilmente si riferiva ad Al ma l'ho scritta anche su Instagram ah ok ok grazie a te veramente lungo ma capisco perché è successo fra le donne non è photoshopato ragazzi il dito di Luis grazie ciccio benzina oh questa sciarpa è caratteristica di 2021 solo questa sciarpa ah io c'ho quella di Twitch infatti ma tu hai questa cosa in realtà io ti ho conosciuto che risciarpa ma mi vengono i brufoli non posso più metterla in giro per il corpo che non c'è no no qua quando fai così tutto qua mi viene e non devi far così devi tenerla così come i preti ma no la sciarpa è per proteggere il collo non per avere scuole no è per status a parte che quella è una toga cristiana che serve per fare tipo un segno di riconoscimento dei preti ti sei divertito ti sei divertito a vincere i webbavors? eccovi ero con Diego a commentare se truccate vengono per l'anno usata del 2008 9 cringe canale che vabbè il ventilatore non solo il ventilatore che è utilizzabile grazie Matteo dai un'occhiata a questa clip l'ho già vista tramite un mototepo infatti tocca recensire le foto e spiegare la storia chi è? chi? che? grazie Volk allora ero mai quello è lusso? alla tua sinistra no Edoardo Mecca ah ho capito ok che palle allora probabilmente eravamo a casa di te da guardare Italia Spagna negli europei quella che Italia ha vinto i rigori poi eravamo all'ultra music festival a Miami abbiamo incontrato un rapper io ipotizzavo fosse un rapper perché avevo una collana e allora ho chiesto ad Edoardo a Roazzi di farci una foto a me e a Edoardo con queste persone che sembravo dire per grazie ciao per i 5 sub basta pieno di amore basta però adesso basta 5 sub no ragazzi basta sapete quanto ho dovete imparazzo questa roba c'è troppo lavoro dietro basta ragazzi che ho preparato questo stream da giorni e sono contento dei vostri sub ma con con cautela io con un albero non sono io va bene grazie grazie caro te lo dice il campione Giorgi Giorgi che nome di merda ciao Silvana un bacio ciao ciao grazie Tomand perché non te lo monti anche in casa grazie per il 5 sub basta adesso grazie a te non dovevi grazie Jerry grazie Tomand ringrazio il Tomand ragazzi ciao Diego ciao Simone ciao Luis avanti Savoia è ormai ritornato avanti Savoia ne mancano solo 6 come il classico meme ne mancano 6 cosa è quello e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video io sono Mario G5110 oggi ragazzi faremo una serie inimitabile che ho creato io non l'ho inventato penso che ci sarà qualche inglese che l'abbia inventato ma ragazzi oggi ho scelto 15 trapper o trapper non so pronunciare trapper o trapper a me sinceramente non piace la parte davanti che è tutta schiacciata però effettivamente ci stanno bene i capelli un po' lunghetti il trucco ci sta è molto è molto bello grazie a te però voto 7 non è che un po' schifato così tanto bella ma neanche tanto brutta grazie ciao grazie mille per le 10 ciab ciao ciab grazie per le 10 sab ciao ci hanno messo un po' a farsi convincere quelli dietro ma eravamo grazie grazie c'è uno che se l'è presa da instagram e ha detto ah questo il prossimo anno la metto su reddit no c'è la mia giacca c'è una giacca di cash grazie che avevi gusto grazie anche la ciao dormi qua te sandri dormi qua no qua a milano guarda qua grazie qua guarda qua guarda qua grazie malcana grazie grazie malcana se uno non si deve arrabbiare non so proprio cosa calca non dovevi non dovevi balcan il tuo nome per iscritto nella storia era entrato adesso di amore dalla chat sarai inondato grazie malcana per le 25 sub donate basta però adesso io vi ringrazio ma basta che non mi piacciono non mi piacciono queste cose non mi piacciono i flex basta però con le cani di amore grazie per la mano di scaldamuscoli no 5 sub posso fare un discorso basta basta grazie a Roma no ragazzi guardate Omi non ve lo dirà mai perché è timido però davvero ci tiene lui si prepara per lui è davvero tantissimo questo tutto questo no 20 sub Omi da Albatrosx ragazzi davvero lui lo mettete in imbarazzo quando fate così per lui è davvero tanto grazie Albatrossone non dovevi mi arrabbia adesso però sono stato esagerando ragazzi grazie Albatrossone per le 20 sub ringraziate Albatross con cantanti di cuore di viola e tante facce arrabbiate grazie anche a Valter ma grazie anche Albatross per tutte queste sabbie comunque devo continuare la live per cui non donate più per favore ti prego ti prego basta ti prego basta scusatemi Angeli blu io con die oh quella settore 5G grazie 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 c'era che pazio che è conte possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa che succede? che succede? buco! oh! è godissimo 110 euro buco roba che amati buco 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 brutto fly di luca buco è importante continuare a rispettare le norme di sicurezza solo in questo mondo a noi una settimana prima che è successo è un po' anacronistico Sdrumot c'è? ah è nione Grandi Grandi Lungini Oh, arriva il vaccino, mi sa, eh Siete i nostri eroi? EROI! EROI! Wow, wow Drill Stop, basta, mi prego, mi sopplico Allora, come sono andato? Male, male per Dio Arrestate quest'anno 2020 Ma cos'ha sta macchina? Scendi giù Forza, forza Forza Ce la faremo Vabbè, tutto il 2020 Non hanno messo i banchi con le ruote Manca il meme, quello col gatto Dove sono le icone fra i capponi? Dove è l'asteroide che doveva sfiorare la Terra? È già flammato i suoi hater Grazie, Hank Grazie, Hank Ma non è mio, ovviamente Ah, non l'ha fatto per il Reddit? Ma ovviamente no Ego c'è Ciao Andrea Ciao Hank Reticente No, ma che c'è ora No, no, saluta Hank Ciao Simone Va bene, va bene Vado a pisciare anche io Vuoi come è che ti copo sul Discord Così discolo un po' No, ma che c'è ora I fucking love pickles E lo sa, bebe laf, per luis Perchè ti conosco così bene? Che ho fatto? No, guarda via Reddit Ah, ok That satisfying crunch Like I'm gonna do that to my man's dick later Vabbè, non hai fatto niente di grave Grande Omi Ragazzi, guarda come eravamo belli E fieri E' abbronzato, eh? Che sono iraniano Ah Ups Ti ho fatto sembrare un razzista adesso No, no, ero avvero Ero avvero No, il Luca Comics si tiene a Novembre No, non so No, iraniano Sì Quello più amato Ce lo dice un vero mago degli eSports Ivan Grieco A te la linea Nella categoria Best Streamer Dei Web Awards 2020 Tra Omiatol e il Masseo Due icone di Twitch Italia Il vincitore è Omiatol Non ci interessa Si, si è sentito 196-5606 E con nove euro al mese Sostieni la fondazione Teleton Che esiste per loro E che finanzia ricerca su queste malattie terribili Rare e dimenticate Tu puoi fare qualcosa per loro Vabbè, fa ridere, dai No, no Ti può ridere E solo perché sto saltando Ma dai, a voi ragazzi, bambini C'è schianto, parla Provo interpretarlo Grazie per la mente Grazie, play in David Do you guys want to hear an Italian An Italian fart? Nope Yes Sono finte Sono finte Questo è arrivato volissimo Questo era vero Da settembre si riparta a bomba Dicembre 2020 Vabbè ragazzi Non è una gara Ognuno si diverte Ognuno si diverte Con i propri amici Ed è bello E let's go to the other table Oh no Ma i cellular Se non va Facciamo una sola Normale E poi le rivincite Le facciotti Normale E poi le rivincite Le facciotti Antico ma sempre nuovo Antico e sempre nuovo Cazzo nel mese scorso Mi sono abbonato a denti E mi sono assorbito a denti Grazie Vivo a te Cazzo nel mese scorso Cacchi! Farò una playlist di merda sui telefoni, va bene farò parlare tutto il tempo un pupazzo della mano. Parmigiano Reggiano Style SKSKSKSKSKSKSK! Mi piace, mi piacciono i contenuti doppiati su altre cose che guardavo. Grazie insipido Ok Questo è il contenuto del mio reddit